ciao a tutti buon fine settimana partiamo con questo sabato con un video dimostrativo toyota chr che viene da milano quindi per noi è un orgoglio e un ringraziamento speciale per tutti i clienti che vengono da lontano che affrontano questo viaggio quindi per noi è un impegno maggiore per dedicarci totalmente a voi parliamo di un toyota chr un top di gamma 6gb di ram rom 128 gb apple carplay android auto dsp slot sim quindi i clienti potranno inserire una sim avere sempre connessione oppure facilmente tramite hotspot averla ugualmente poi abbiamo gestione audio e video tramite usb dove possiamo caricare copertina album gestione file ricerca playlist e stessa cosa per quanto riguarda la gestione video non da meno importante sono le nuove home che abbiamo inserito perché magari avere sempre la stessa home dopo qualche anno mese il cliente si stufa e qui abbiamo dato tre home gratuite dove il cliente potrà personalizzarle ogni home alla sua parte particolarità potrà gestire un effetto la macchina in movimento chilometraggio velocità e poi abbiamo inserito una pagina con più di 100 home dove il cliente potrà acquistarle o singolarmente oppure fare un pacchetto unico e acquistarle tutte 100 sono molto particolari con sfondi limitati recupero comandi al volante e poi molto importante sarà anche la gestione ibrida dove il cliente potrà verificare tutta la gestione ricarica batteria gestione pressioni gomme impostazioni veicolo qui abbiamo la gestione pressione gomme poi andiamo nella sezione ibrida e poi abbiamo anche altri dati adesso come andiamo nel movimento abbiamo lo stato ricarica batterie e poi abbiamo una serie di dati dove il cliente potrà consultare uno storico eccoli qua dsp processore sonoro dove il cliente potrà settare l'impianto audio ricordiamo che per le toyota chr che hanno un impianto gpl nessun problema andiamo a recuperare anche l'amplificatore originale un processore velocissimo dove vi permette di usare più app in contemporanea possiamo eseguire la funzione split screen dove per il passeggero andiamo a mettere un navigatore per i passeggeri possiamo fare intrattenimento con youtube oppure gestione audio e video per tutte le chr che hanno la retrocamera si recupera tranquillamente possiamo impostare le linee guida statiche o dinamiche queste sono tutte le personalizzazioni che si possono fare mentre per chi non ha la telecamera la possiamo inserire io vi ringrazio tutti i nostri prodotti sono presso il nostro shop due anni di garanzia per chi vuole che lo spediamo diamo assistenza da remoto tramite videochiamata whatsapp ricordiamo che per tutti i nostri abbonati della nostra pagina facebook riserviamo un 15 per cento di sconto su prodotti e servizi e una serie di agevolazioni su omaggi gadget e altre iniziative vi ringrazio e buon weekend